Secondo contrasto all'interno dell'album, che è il contrario di infiniti, quindi è il finito, rappresenta i confini dell'uomo. Noi crediamo sempre di poter raggiungere qualcosa di estremamente grande e anche siamo convinti di poter fare tutto, tanto da poter anche essere convinti di racchiudere l'infinito, cosa che non possiamo fare nella nostra finitezza, quindi troveremo sempre che non potremo mai chiudere l'infinito dentro il nostro finito ed è quindi una riflessione sui limiti. Grazie a tutti.